Stefano De Martino e Emma Marrone dobbiamo darvi una splendida notizia. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, andiamo a scoprire una storia che ha tenuto banco per più di un decennio nel mondo del gossip, il triangolo amoroso tra Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ricordate quando Emma, la nostra amata cantante dal cuore Salentino, e Stefano, il carismatico ballerino di Napoli, sembravano inseparabili? La loro storia d'amore durò tre anni, finché, come in una sceneggiatura di una telenovela, Stefano fu catturato dal fascino irresistibile di Belen, la showgirl che ha lasciato il suo segno nel mondo dello spettacolo. Un amore nato tra i corridoi di Amici che ha acceso le pagine delle riviste di Cronaca Rosa, proprio come è accaduto in passato a celebrità internazionali come Brad Pitt e Jennifer Aniston. Il tempo, però, è il grande mediatore. Oggi, Emma e Stefano sembrano aver trovato un nuovo equilibrio nelle loro vite. E qui arriva il colpo di scena che ha scosso di recente i loro fan, Stefano ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in pieni preparativi per il suo nuovo show, Da Natale a Santo Stefano. Ma il vero elemento sorpresa? Un illikey da parte di Emma, uno dei primi cuoricini a comparire sotto la foto. Un gesto che ha fatto scatenare i fan, è solo un segnale di amicizia o c'è di più?